Ciao sono Maurizio De Giovanni e vorrei abbracciare fortissimo gli amici del premio Malafemmina mi dispiace di non poter essere alla vostra bellissima manifestazione grazie per quello che fate per quello che fate per la città io credo che ogni celebrazione delle eccellenze della nostra terra sia anche inevitabilmente una celebrazione per la terra stessa quindi grazie per questo un abbraccio fortissimo e prestissimo ci vedremo grazie grazie Maurizio grazie ti vogliamo bene che tra l'altro veramente porta e racconta una Napoli non soltanto nei suoi libri ma in tutte le fiction di punta di grande successo della RAI quindi non lo ringrazieremo mai abbastanza non lo ringrazieremo mai abbastanza